infatti io so i pensieri che medito per voi dice il signore pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire una speranza voi mi invocherete verrete a pregarmi e io vi esaudirò voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore io mi lascerò trovare da voi dice il signore libro del profeta geremia capitolo 29 versi 11 a 14 grazie a tutti